Le squadre nazionali, Paolao, alla fine della quarta giornata è arrivato un quinto posto per Marta Menegatti e Vittorio Orsitot, mentre i ragazzi domani lotteranno per la semifinale, Lupo Nicolai parliamo, un commento, le tue impressioni? Beh, naturalmente un po' di amarezza nella nostra ultima partita di Marta Ivicchi, abbiamo un fatto, hanno giocato bene in alcuni momenti, hanno usato meglio i momenti e anche un pochettino sulla battuta, la nostra battuta è che è entrata sempre come doveva entrare, però i ragazzi hanno luttato, hanno cercato di fare il massimo in tutta la partita, durata la partita, credo qui è un quinto posto anglo-europeo in una posizione di Eudoro Pedro Louro, potremmo arrivare in semifinale, ma questo è un pochettino, la coppa hollandese ha giocato molto bene. In relazione a Lupo Nicolai, il domani è una partita difficile contro l'erlandese, e speriamo di poter dimostrare il nostro gioco come abbiamo fatto fino adesso e magari arrivare in questa semifinale, sarebbe già un passo verso l'obiettivo di stare sul pòdio, che è quello l'obiettivo finale per loro due.